Signore e signori, è ora un fuori programma. E qui con noi, un uomo che ha girato il mondo, è stato… È piaciuta! Signori, scusate, ma pensavo che non c'esse l'uomo. Ehi! 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 Signori e signori, è qui con noi il maestro Mellone! Maestro? Maestro? Eccolo qua! E' piaciuto! Buonasera maestro! Salve! Cosa ci farà ascoltare questa sera? Stasera, mi farò ascoltare una rietta intitolata Aucar. Con parole di Gabriele D'Annunzio e su musica di Francesco Paolo Tasti. E' una cosa piace a te! Prego maestro! Buonasera 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 maestro! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.